Preoccupa la situazione dei contagi lungo la costa pescarese Chietina ed in particolare all'interno dell'area metropolitana. Percentuali doppie rispetto alla media regionale che hanno indotto il presidente della giunta regionale a scrivere ai sindaci di Pescara e dell'Interland affinché si tenga alta la guardia e si continue a procedere agli screening. L'Abruzzo, che si appresta a tornare zona gialla dopo altre due settimane di restrizioni arancioni, potrebbe trovare proprio nell'area metropolitana di Pescara polo attrattivo per spostamenti di lavoro e di scuola un vulnus come fu nella prima fase della pandemia. Per questo il sindaco di Pescara Carlo Masci invita ancora una volta i cittadini a fare attenzione a rispettare le regole anticontagio e a non affollare soprattutto nei fine settimana le zone centrali della città. Molti cittadini, io dico anche giustamente perché un anno di chiusure generalizzate comporta comunque la voglia di uscire ma questo non vuol dire che bisogna abbassare le precauzioni, anzi bisogna alzarle perché da un anno continuiamo a dire mascherine, distanziamento, pulizia e noi il sabato la domenica quando giriamo vediamo troppa gente senza mascherina che si avvicina a parlare ad altre persone che sono senza mascherina. Marsilio ha lanciato questo appello che io raccolgo, noi abbiamo fatto in questi giorni dall'inizio dell'anno 20.000 tamponi, a queste attività abbiamo aggiunto gli screening fatti negli enti pubblici. Da tenere sotto controllo anche la situazione all'interno delle scuole dove le persone in quarantena sono un migliaio a fronte di poche decine di contagi, dopo le superiori a breve partirà uno screening sugli studenti delle scuole medie di Pescara. E cominceremo da febbraio, i primi giorni di febbraio quindi ci siamo, abbiamo un quadro abbastanza ampio, ci sono in questi giorni più contagiati rispetto al passato, evidentemente il periodo natalizio ha influito e ha inciso molto sui contagi, a conferma del fatto che bisogna stare attenti, attenti, attenti.